Oggi primo marzo 2019, ecco il campanile a Matitoni, si chiama così di Lecco, sono qua in questa bella città che fa provincia da pochi anni, sono sul lungo lago e esattamente mi trovo in busse, questa è tutta la passeggiata del lago che facevo sempre anche 30 anni fa quando abitavo qui in una casa in affitto, ora sto andando a Mandello dell'Ario, vicino allo stabilimento della Motoguzzi, ecco là di fronte un altro paese del lago di Como, però qua siamo nella sponda del ramo di Lecco, questo breve Youtube, oggi incomincia bene come una bella passeggiata, un bel sole e una speranza per nuove trattative nel campo dell'arte, Aldo, il girovago, continua ad esplorare i tre laghi della Lombardia, oggi lago di Como, Aldo.